Sant'Anna Box of Art è un modo nuovo di allestire mostre di artisti che possono essere visitate solo sbirciandole attraverso uno spioncino. L'idea dell'Associazione Culturale di Teramo Big Match che ha dato vita a questa scatola artistica a Piazza Sant'Anna, cuore storico della città. Come si svolgeranno le vostre mostre e cosa metterete in mostra? Allora abbiamo deciso di dedicare questa edizione di Sant'Anna Box of Art, la seconda, all'illustrazione e quindi esporremo le opere di otto illustratori della regione ma non solo e inaugureremo il 9 marzo qui a Piazza Sant'Anna. La particolarità è che le opere potranno solo essere sbirciate dalla porta quindi non si potrà entrare all'interno della location espositiva. Che differenza c'è vedere un'opera così da vicino e invece sbirciarla attraverso un vetro? Allora l'idea era che dovesse essere quasi una sorpresa anche per i passanti quindi anche che fosse una cosa molto meno impegnativa. Le mostre a volte sono frequentate soltanto dalle persone che vogliono veramente frequentarle. Invece qui è come una sorta di sorpresa, un incontro casuale all'interno della città. Cosa sbirceremo? Allora sbirciaremo otto illustrazioni, passeranno una settimana quindi ogni settimana inaugureremo con un nuovo autore e avranno il filo rosso della periferia. Le future mostre da sbirciare a Sant'Anna Box of Art racconteranno di periferie ma anche di individui e di esistenze e non mancheranno illustrazioni d'autore. Un grande disegnatore come Carmine Di Giandomenico cosa esporrà? Beh diciamo che esporrò un disegno semplice che però nel contesto dell'evento e nel contesto di come è strutturato tutto il discorso di questa manifestazione sarà un omaggio a Sergio Leone.